Questi sono abiti della mia ultima stilata di Milano, sono per la prossima estate, avevo voluto rappresentare una donna pirata, una piratessa cibernetica e qui è un abito di fisto da portare a pelle con questi ricani con lana applicati sopra, ovviamente fatti a mano, sono abiti di pretà forse. Una signora, mi domando, è così, l'abito è bellissimo, la tettitura è splendida, pare molto una lastra, cioè si vede tutto, quindi una serata molto... Ma in questo caso è una serata delle casalinghe, una casalinga particolarmente sensuale per una serata molto particolare, magari con indosso un leggisino di pizzo così si nasconde tutto. E' il caso che non esca da sola comunque una signora in questo modo. No, non deve esserlo. Thank you, Mr. Guetta.